Parapapam... 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 Parapapaparadi! Più forte! Parapapapapa... Parapapapa... Sì 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 Tánh Sì 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 I'm from behind, right in the door, I'm gonna let you go I'm from behind, right in the door, I'm gonna let you go And I'll just go crazy, and I got in my legs, and I'll be jaded And I told you, man, I can't take me to the game, because I'll just try to blame And I still play, and I can't take my legs, and I'll be jaded And I told you, man, I can't take my legs, and I'll be jaded Grazie amici, grazie Maria, grazie di cuore a tutti voi che siete qui stasera a fare il Grazie amici, grazie di cuore amici, grazie, noi siamo gli Absolute 5 Martino Pavanello, Steven Violle, Checco Samelli, Daniele Di Pianzo, Gianni Zogaro, grazie a tutti voi, grazie davvero, grazie ancora al nostro staff edico, meraviglioso, grazie amici, buona notte, buona estate Grazie a tutti Buona notte, grazie Grazie a tutti.